Ciao a tutti, io ho un nuovo dolore, dito lei ha certo perché scoppiamo il verlo e la nostra vita è quella degli altri e lo stare bene insieme è il vero e la condizione di esperienze bellissime e la condizione di esperienze è la nostra vita. E' un'altra cosa, mi chiedo, non ho capito, 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 non ho capito. Perché stai la case in sano 정ità, non ho capito, non ho capito, non ho capito per me, non ho capito. Deve aprire perché è vita e non posso più stare a casa. Voglio vivere con i miei amici. Ciao. Grazie Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Io vorrei che il centro fosse aperto per me perché io non ce la faccio più a stare in casa. Basta. Voglio tornare da Antonella perché è là perché si canta, perché c'è divertimento, perché c'è gente che vuole tornare. Perché noi siamo staccati, vogliamo tornare a cantare come prima. Quindi il centro Zenit è un posto di culto. Vogliamo tornare allo Zenit. Basta. Vogliamo tornare. È importante far aprire il centro Zenit perché è l'unico centro che rimanerà aperto tutti i giorni dell'anno. E Antonella è l'unico che ci fa fare molti viaggi. Buonasera. Io chiedo al primo ministro di riaprire il centro Zenit. Per me il centro Zenit è comunicare con gli altri, cioè recitare, ballare, cantare in allegria. Ciao.